Ciao, sono Jessica Ristighini, fondatrice del canale YouTube di Ketisema e Sentenza. Ciao, sono Victor D'Aliar, poste opola. Oggi vorrei rispondere a un po' di domande che sono state poste e un po' di curiosità. Speriamo tanto di esservi utili. Victor, molte pazienti hanno problemi sulla mobilità. La mobilità la trovano, mi riferiscono, un po' bloccata. Cosa può fare l'ostopatia a riguardo? L'ostopatia può essere molto utile per ritrovare mobilità nel proprio corpo. In effetti è uno degli obiettivi principali che cerca di seguire. Ridare mobilità a ciò che il paziente lamenta o evidentemente dimostra di avere perso, range di mobilità. Nel vostro caso, le persone che hanno avuto un intervento al seno spesso lamentano una ridotta mobilità della zona interessata all'articolazione. Dicono, non si muove più come prima. Allo stesso tempo lamentano paura nel movimento perché avvertono immediatamente del dolore. E questo è un ciclo vizioso di chiudere sempre di più l'articolazione e non muoverla. Evitare il più possibile di provare dolore o di sperimentare se possono riottenere la stessa mobilità di prima. Certo, un osteopata può essere molto utile in questo caso. Un osteopata può aiutare il paziente a capire dove effettivamente ha perso della mobilità per delle cause, per esempio delle cicatrici. Andare a risolvere queste problematiche, dopodiché far riguadagnare al paziente la mobilità che aveva prima dell'intervento per far tornare il paziente il più possibile alla sua vita quotidiana nella sua più piena normalità. Ok, però che paura fa male? Allora, non si parla di un grosso dolore, non si parla di un grosso intervento in merito. È vero che ogni persona ha la sua soglia del dolore, ma non parliamo di trattamenti così invasivi. Dovete immaginare, per esempio, una persona che va da un massaggiatore e ha un muscolo molto indurito e indurenzito. Evidentemente un massaggiatore, mettendoci mano, molto probabilmente vi darà del fastidio inizialmente. Voi sentirete quasi subito del beneficio, perché è una zona molto contratta, molto infiammata. verrà pian piano sciolta, verrà pian piano allungata, verrà pian piano decontratta. Potete usare questo paragone per altre strutture che noi andremo a lavorare sul vostro corpo, come in questo caso le cicatrici. Nessuno dice che non se ne avvertirete mai nulla, potrete probabilmente all'inizio soprattutto avere dei fastidi, ma sono fastidi contenuti e lo scopo è piano piano risolverli, non averli più. Ok, grazie. Prego. Prego.